E poi c'è una lista che sicuramente si porterà quando meno un trofeo ambizioso, quello di avere il primato delle preferenze, non solo all'interno del cartello ma anche di tutta la condizione elettorale, che è la lista Vinturno domani, che per anzianità, ahimè per loro, è una di quelle che ha maggiore esperienza sul nostro territorio. Queste quattro liste qui porteranno il Comune di Vinturno ad avere un governo forte e autorevole e il 7 maggio saremo qui se voi metterete il piede sull'acceleratore, vinceremo, sono sicuro, al primo turno.